Se durante la stagione invernale la possibilità di fornitura continua della potenza termica estesa anche alle fasi di sbrinamento rappresenterà un notevolissimo incremento delle condizioni di comfort ambiente. Per ottenere lo stesso risultato durante la stagione estiva dobbiamo intervenire su uno dei parametri più rappresentativi del comfort durante questa stagione. Stiamo trattando di sistemi che operano la climatizzazione per ventilazione. In tale tipo di sistemi la temperatura di immissione dell'aria in ambiente rappresenta certamente uno di questi fattori. Ma parliamo anche di sistemi VRV, sistemi che operano quindi la climatizzazione ad espansione diretta. Sistemi cioè nei quali è direttamente il refrigerante che è inviato alle unità interne attraverso la trasformazione di evaporazione determina la fornitura e la generazione della potenza frigorifera. In tale tipo di sistemi è evidente che la temperatura di immissione dell'aria sarà direttamente legata, sarà una funzione diretta della temperatura del refrigerante. In un sistema VRV di tipo tradizionale la temperatura del refrigerante a livello di evaporazione rappresenta un valore assolutamente costante indipendentemente dalle condizioni di carico richieste all'unità interna. Rappresenta anzi un pilastro nella regolazione della macchina, un valore sulla base del quale vengono modulati i principali organi di regolazione dell'impianto. In conseguenza di ciò anche la temperatura di immissione dell'aria presenterà dei valori invarianti al variare del carico termico richiesto all'apparecchiatura. In una quindi tipica giornata estiva nella quale il carico presenta una variazione passando da valori ridotti durante le ore estreme della giornata e presentando un picco nelle ore centrali, l'unico parametro su cui si interviene in un sistema tradizionale per la modulazione della potenza è il volume del refrigerante inviato all'unità interna, motivo del resto per cui chiamiamo il sistema a volume di refrigerante variabile. Questa portata di refrigerante sarà aumentata o diminuita a seconda che la richiesta di carico sia maggiore o minore. Ribadisco però che in tutte le condizioni la temperatura di evaporazione e quella di emissione dell'aria restano assolutamente costanti. Bene, tutto questo possiamo dire che da oggi diventa storia. Il sistema VRV di quarta generazione sarà infatti dotato di un dispositivo che rivoluzionerà completamente il modo di concepire, progettare ed utilizzare un impianto VRV. Questo dispositivo denominato VRT, che sta per Variable Refrigerant Temperature, renderà variabile il parametro che fino ad oggi è stato una costante fissa di riferimento, cioè la temperatura di evaporazione, che diventerà un parametro modulabile sulla base delle effettive esigenze di carico dell'unità interna. Cosa determina questo ai fini della regolazione dell'apparecchiatura? Sempre facendo riferimento ad una tipica giornata in cui ci sono delle variazioni di carico richieste all'apparecchiatura, in tutte quelle situazioni in cui all'unità interna è richiesto di operare ad una potenzialità inferiore a quella nominale per cui la macchina è calcolata, situazioni che rappresentano fra l'altro la stragrande maggioranza della vita utile di un'apparecchiatura di climatizzazione, anziché intervenire direttamente solo sul volume del refrigerante inviato all'unità interna, grazie al sistema VRT saremo in grado innanzitutto di innalzare la temperatura di evaporazione del refrigerante. Parallelamente a questo il sistema presenterà un innalzamento della temperatura dell'aria emessa in ambiente e di conseguenza otterremo la voluta riduzione di potenza frigorifera. Solo in una fase successiva e per allineare esattamente la potenza fornita dall'unità interna a quella richiesta dall'ambiente si interverrà sulla portata del refrigerante. Saremo quindi sempre in presenza di un sistema volume di refrigerante variabile, ma l'entità delle variazioni di questa portata saranno decisamente ridotte rispetto a quanto avveniva in un sistema tradizionale. È ovvio oltresì che in quelle per fortuna rare condizioni in cui all'unità interna sarà richiesto di fornire il carico di picco che il sistema VRT porterà nuovamente la temperatura di evaporazione al valore minimo possibile e verrà massimizzata la portata di refrigerante nell'apparecchiatura in modo che l'apparecchiatura stessa sia in grado di dare la massima potenza richiesta. A questo punto ci si chiederà perché Daikin ha deciso di introdurre una nuova variabile in un sistema come il VRV caratterizzato già in sé da una sofisticata regolazione. Ebbene la risposta sta nelle due principali conseguenze che si porta con sé la possibilità di variazione della temperatura di evaporazione del refrigerante. La prima riguarda l'aspetto del comfort. Come detto inizialmente, grazie all'aumento della temperatura di evaporazione saremo in grado in tutte le fasi di carico parziale di aumentare la temperatura dell'aria emmessa in ambiente. Aria che quindi verrà immessa ad un valore tale di temperatura da più facilmente e più rapidamente potersi miscelare con l'aria circostante diventando neutra nella zona occupata dagli utenti. Un secondo aspetto, forse più importante del precedente visto il periodo, riguarda l'efficienza energetica. Sappiamo infatti che l'efficienza di un ciclo frigorifero a compressione di gas è direttamente proporzionale alla temperatura di evaporazione del sistema stesso. Aumentare, innalzare la temperatura del refrigerante consente a parità di tutte le altre condizioni di ridurre il lavoro svolto dal compressore. Bene, questo è facilmente intuibile se consideriamo che, parlando di un sistema a compressione di gas, alla temperatura di evaporazione è associata univocamente la pressione di evaporazione. Aumentare quindi la temperatura del refrigerante significa aumentare la sua pressione, aumentare la pressione con cui questo ritorna al compressore che quindi partirà da un gradino più alto nella successiva ricompressione e dovrà svolgere un lavoro inferiore. Considerando che dei vantaggi che fornisce questo dispositivo ci si avvantaggia in tutte le situazioni in cui la macchina lavora a carico parziale, situazioni che secondo gli indici più diffusi in Europa rappresentano oltre il 90% della vita utile di un'apparecchiatura di climatizzazione, si arriva a ottenere che grazie al sistema VRV4, spalmando tutti questi vantaggi su un'intera stagione di funzionamento, si riescono a ottenere riduzioni dei consumi energetici dell'ordine del 25% rispetto ad un sistema VRV tradizionale. Ho usato prima il termine concepire e ho cercato di spiegarvi seppur brevemente come il sistema VRV è stato concepito nella sua quarta generazione, ma ho detto anche progettare ed utilizzare. Infatti quella che vi ho ancora brevemente spiegato è solo una delle possibili modalità di funzionamento del sistema VRV4, la modalità definita automatica nella quale è l'apparecchiatura stessa a stabilire i valori ottimali dei parametri di funzionamento a seconda delle richieste di carico. Non è questa l'unica modalità di funzionamento, accanto a questa ci saranno due macro modalità, la prima chiamata basic, nella quale la temperatura di evaporazione torna ad essere un valore fisso, prefissato e portato al valore minimo, avvicinando in questo modo il funzionamento del sistema VRV4 a quello di un sistema di tipo VRV3, quindi delle passate generazioni. Ultima principale modalità di funzionamento è chiamata iSensible, una modalità nella quale al progettista, all'utente finale, sarà consentito di stabilire ben precisi confini di questi parametri all'interno dei quali la macchina dovrà muoversi. Sulla base di cosa verrà effettuata la scelta della modalità di funzionamento. Ebbene questa scelta verrà fatta sulla base di due esigenze, ahimè contrastanti fra di loro, ma che si presentano in tutti gli impianti di climatizzazione. La velocità di risposta del sistema alle variazioni di carico e l'efficienza energetica. Perché queste due esigenze siano in contrasto fra loro lo possiamo intuire facilmente facendo un'analogia con la nostra autovettura. Se noi sollecitiamo un'autovettura a repentini cambi di velocità, premendo a fondo l'acceleratore, avendo uno stile di guida piuttosto irruento, otterremo certamente una risposta rapida nelle accelerazioni da parte della macchina, ma non potremo certo aspettarci di avere un consumo ridotto di carburante. In alternativa possiamo scegliere di adottare uno stile di guida più tranquillo, accontentandoci di variazioni nella velocità più morbide, ma avvantaggiandoci di un maggior risparmio di carburante. Bene, il dispositivo VRT può essere visto come l'acceleratore modulante del VRV4. Un dispositivo che ci consentirà di decidere quale stile di guida adottare con il sistema VRV. In presenza quindi di un impianto nel quale per via ad esempio della delicatezza di alcune aree risulti preponderante la velocità di risposta del sistema perché non possiamo permetterci di avere zone che lentamente rispondano alle variazioni di carico, adotteremo certamente la modalità di funzionamento basic nel quale, essendo la temperatura di evaporazione portata e fissata al valore minimo, la macchina sarà in grado di avere risposte rapide perché sarà sempre in grado di fornire la massima potenza alle unità interne. In alternativa la modalità automatica rappresenterà un compromesso fra le due esigenze, dato che in questo caso lasciamo all'unità la libertà di decidere i migliori parametri di funzionamento e quindi decidere a quale delle due esigenze dare volta per volta la priorità. Se invece stiamo progettando, utilizzando, realizzando un impianto nel quale abbiamo zone dove non è così importante che la temperatura venga mantenuta istantaneamente a valori prefissati, ma vogliamo avvantaggiarci di un grande risparmio energetico, certamente potremo adottare la modalità e-sensible nella quale attraverso tante sottomodalità e ulteriori regolazioni potremo ottenere il massimo del risparmio energetico accontentandoci di una minor velocità di risposta ai carichi. In definitiva il dispositivo VRT consentirà al VRV di quarta generazione di adattarsi alle esigenze di di qualsiasi impianto di climatizzazione.